Tutta la pavimentazione dei garage nella piastra 14 del complesso del progetto case di Paganica 2 è inondato da fanghiglia da residui della grande pioggia di ieri. Un problema quello degli allagamenti che purtroppo si ripropone è l'ordine del giorno quando le piogge sono un po' più abbondanti e i residenti chiedono degli interventi seri per risolvere una volta per tutte questa situazione che crea disagio ai residenti anche perché l'acqua era arrivata al vanascensore e soprattutto per le persone anziane qui molto numerose che hanno difficoltà di deambulazione i problemi ci sono e come. All'alimenti frequenti all'Aquila ogni volta che la pioggia scende in maniera più potente la giornata di ieri in cui il meteo lo aveva ampiamente annunciato ha riproposto in città problemi in diverse zone ad esempio al progetto case di Paganica dove hanno fatto il giro del web le immagini dei cassonetti dell'immondizia che galleggiavano nell'area dei garage. È stato necessario l'ennesimo intervento dei vigili del fuoco per liberare il piano terra e il vanascensore dall'acqua. I residenti non sanno davvero più a quale santo rivolgersi perché ogni volta che piove il problema si ripropone. Colpa evidentemente del sistema fognario così pare che non riesce a drenare l'acqua che così si riversa nel pian terreno e nel vano ascensore provocando disagio a non finire per chi risiede negli appartamenti. Ogni volta che piove l'acqua allaga il piano che viene usato come garage dove ci sono isolatori sismici che reggono le piazze del progetto case. Acqua e fango che vanno a finire nel vano ascensore creando poi tra l'altro non pochi problemi a chi ha difficoltà di diambulazione e lì ci abitano soprattutto persone anziane. Questa mattina a Paganica nella piastra 14 tutto sommato la situazione era tornata alla normalità ma il pavimento era inondato da fango e residui della pioggia caduta ieri. I residenti a questo punto chiedono un intervento strutturale. Ieri hanno contattato anche il consigliere comunale Stefania Pezzopane per farsi portavoce delle loro istanze per risolvere la problematica una volta per tutte.